Ma quanti di noi cristiani, pur essendo stati battezzati, non abbiamo fatto e non abbiamo avuto una rinascita dall'alto? In inglese si direbbe un born again, una rinascita dove pur essendo in questo corpo che Dio ci ha dato, noi seguiamo la legge dello Spirito, lo Spirito Santo che ci guida alle cose spirituali e ci dona il discernimento in tutto ciò che accade. Noi possiamo vivere l'esperienza della guerra, di una pandemia, di una malattia, di una crisi da uomini spirituali senza mai abbatterci e scoraggiarci e disperarci, al contrario di coloro che fissano lo sguardo solo sulla carne. C'è la guerra, aiuto, disperato. C'è una malattia, non so più che cosa fare. Chi crede in Cristo ha la vita eterna, ha la speranza e segue lo Spirito Santo. Dobbiamo rinascere dall'alto.